Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Xeromers 2 Oggi in questo tutorial vi farò vedere come sbloccare la Kaioshin del tempo Le mosse di Goku Ultra Istinto padroneggiato e in più anche le mascotte e tutt'altro Però se volete un po' sapere un parere mio, onestamente questo nuovo DLC è stato un po' deludente Perché mi sarei aspettato più una missione parallela che almeno due o tre Che facessero sbloccare sia le mosse di Kaioshin che anche quelle di Goku Allora, innanzitutto come si fa a sbloccare la Kaioshin del tempo? Una domanda che parecchi si domandano Allora, innanzitutto sappiate che con o senza il Plus basta che siete collegati al server di Xeromers 2 Ora vi spiego il perché Perché dovete dirigervi qua esattamente, guardate la minimappa Nell'area torneo mondiale E dovete Dovete andare a parlare con questi qua della reception Ecco, questa è la reception del torneo mondiale Ma non siamo pronti Il torneo è un evento online a quale puoi partecipare quando sei connesso al server Xeromers Considerando che io ho fatto Sono andato qui Poi mi ha teletrasportato in un filmato dove Trunks e la Kaioshin del tempo Vogliono organizzare un torneo mondiale solo con i Patroller Qua, in questo punto, spawnerà Trunks In questo punto dove sono io Spawnerà Trunks e vi chiederà di fare alcune missioni La prima missione in assoluto, cari ragazzi, consiste Consiste, dico consiste, di sconfiggere i Patroller La seconda missione invece dovremmo affrontare Goten, Trunks e Trunks Bambino Poi inizia il torneo Il primo torneo rima a che fare con il numero 16 Io vi sto dicendo piano piano le missioni Cercate di capire Quindi i primi Patroller Poi Goten, Trunks e Trunks Bambino Poi C16 E arriva già la semifinale leggermente tosta Ovvero la semifinale contro Goku Contro Goku, ragazzi, che non è assolutamente facile Perché dovremmo affrontare le varie fasi Ovvero quando diventa Super Saiyan E anche Super Saiyan Dio Poi Super Saiyan Blue E poi Super Saiyan Blue Kaioken Quando sta proprio a corto di vita Questa è stata la missione più tosta Piuttosta E successivamente dopo Che cos'è che affrontiamo? E la finale Che dobbiamo sfidare il nostro Patroller Direttamente dal primo Xenoverse E poi la Kaioshin del Tempo Ma attenzione ragazzi Quindi fate molta attenzione Non potremmo usare le capsule energia Attenzione O almeno che non avete l'anima Dei Namecciane Che vi permette di rianimarvi La salute automaticamente Fate molta attenzione Perché non è Perché è veramente tosta Solo per un totale di queste missioni Poi Se volete un parer mio Io ho affrontato Tutte queste missioni Con le mosse supreme Ovvero Uragano Blu E Raggio Letale dell'Imperatore Perché il Raggio Letale dell'Imperatore È molto utile Anche se consuma molta aura Ti può essere utile Perché anche se il tuo avversario È a pochi centimetri da te Lo blocchi E non ti fa nulla E Uragano Blu Lo conosciamo tutti Perché su primo Xenoverse Era la mossa più forte Di tutte le altre Ok Poi Dovete fare Una prima volta Dovete fare Una prima volta E finire il torneo Poi Una seconda volta E sbloccherete La Kaioshin del tempo E poi Le missioni da ripetere In questo caso A me non mi è apparso nulla Però io Già avevo fatto un'apparizione Considerando che a me Domani mi scaderà il plus Però penso che Anche senza l'uso del plus Si può usare ragazzi Poi Un'altra cosa Le illustrazioni Le illustrazioni È la novità di Xenoverse Ragazzi Eppure le mascotte Qua ci sono Come potete ben vedere Io C'ho solo i veicoli Per il momento Perché La ritengo Un po' inudile La cosa Guarda Non è che Sia Proprio Una cosa che mi sia Garbata più di tanto Aspettate un attimo Che vorrei cercarvi La No questa è la musica Non ci interessa Va bene C'è il menu Illustrazioni Il menu Illustrazioni Dove Nella schermata Di caricamento Potete mettere Delle varie cose Ok Ora ci Diriggiamo Aspetta Vi faccio vedere Anzitutto La Kaioshin Vi faccio vedere La Kaioshin Che ho sbloccato E faremo anche Un piccolo test Pure Allenamento E vi farò vedere Anche un altro personaggio Nascosto E infatti Ragazzi Eccola qui La Kaioshin Del tempo In tutta La sua bellezza E' stato veramente Tosta da sbloccarla Perché la prima volta Non ti fa sbloccare nulla Ragazzi Quando partecipate Al torneo La seconda volta Invece Ve la sblocca Ed è Sbloccabile E rimarrà fissa Con tutti gli altri Patroller Quindi va bene Facciamo lei Facciamo lei Contro Zamasu Fusione Corrotto Voi vi domanderete Come cazzo fai Ad avere questo personaggio Non è una mod Ragazzi Non è una mod Ma stia Ma L'ho preso Tramite il negozio Di medaglie PT Andiamo a una parte Dove possiamo Analizzare Ovvero Torneo del potere Dai E' l'unico modo A parere mio Questo DLC E' stato molto deludente Questo è ancora Un parere mio Ok Ecco Vedete La schermata di caricamento Avete visto Questo flash Di Trunks Della Kaioshin Ok Adesso Ci vedremo Un po' Aspetto un attimo Olè Allora ragazzi Come potete ben vedere Questa è la Kaioshin Beh guarda E' carina Però ragazzi Non la sottovalutiamo Perché come vi posso dire E' molto Guardate qua Vediamo un po' Le combo normali Come sono fatte Aspetta che devo vedere bene Fa un po' Di danno E' ammettiamolo Fa un po' Di danno E questa Già è positiva E' la cosa Già è Positiva Molto positiva Ah comunque C'è anche la UR Della Kaioshin Del tempo E fortunatamente Già Dopo vi farò vedere Pure le nuove UR Che ho trovato Vediamo un attimo Le mosse Che fa Una sottospecie Di orologio Fa una sottospecie Di raggio E comanda Le palle Va chiamiamolo così Questo qua invece A me mi piace E' molto utile Perché può essere Anche Usata Mentre uno Preme quadrato Ed è perfetto Non è male Mi piace Sta mossa E vi ripeto Che le mosse Della Kaioshin Si possono Sbloccare Solo Ed esclusivamente Durante questo Torneo Però tranquilli Che potrete Sempre E dico sempre Andare a ripetere Le missioni Finché Sbloccherete Le nuove Illustrazioni E anche Le mosse Della Kaioshin Dovete stare Tranquilli Perché La potete Ripetere Più di una volta Perché io L'ho fatto Con lo sbloccamento Che ti esce Che è la cosa La cosa normale Quando uno Può Andare a ripetere Poi Andiamo con Il cannone Divino Questa è una mossa Veramente carina Guarda Mi è piaciuta Però Vedete Usa Quattro cose E sta E sta Sempre Là Vedete Sta Sempre Là Can Be Vai Bello Comunque Mi piace Questa è una buona Mossa E ora Facciamo Impatto Spazio Temporale E a parer mio Questa è una mossa Un po' più Bella Rispetto All'altra Perché fa Un danno Un po' più Maggiore Aspettate Va bene Allora Personaggio Lo posso definire Sia online E offline Garantito Con tutta tranquillità Perché è un personaggio Veramente forte Anche se Devo dire la verità Mi ha un po' deluso Sto DLC Perché mi sarei aspettato Ve lo ripeto Per la seconda volta Mi sarei aspettato Molto Ecco L'illustrazione è questa qua Che nell'immagine di caricamento Noi non vedevamo sempre Questo nero Ma adesso Ci sono queste immagini Che sono molto utili A parer mio Sono veramente Molto Ma molto utili Vedete Ora Vi farò vedere Le mosse Allora Avete capito bene Il passaggio Per andare A vedere Le mosse Della Kaioshin E la Kaioshin Del tempo Dove si sblocca Avete capito tutti Spero che avete capito tutti Perché Il passaggio Lo dovete ripetere Più di una volta La dovete ripetere Per sbloccare La Kaioshin Dovete fare Una seconda volta Il torneo mondiale Dei patroller Una seconda volta Poi Per quanto riguarda Le mosse Uscirà automaticamente La schermata Scegli la missione E scegliete voi Quale volete fare Ok Ora Vi faccio Vedere Vi faccio Vedere Le mosse Di Goku Ultra Istinto Padroneggiato Andiamo nel negozio Delle medaglie PT E andiamo Esattamente Ora vi faccio Vedere pure Le illustrazioni Ok Per dirvi Guardate qua Ce ne sono parecchie Possiamo vedere Tanto non ci sono problemi Possiamo Come si fa No Vedete Sono tutti Belle E lo hanno fatto Pure bene Mi piace pure Sta cosa Come vi posso dire Mi piace Perché così Uno si vede Anche bene La bellezza Di Xenowars Cioè Guardate Com'è bella Questa qua Di Del patroller Con Ub E con Goku in fondo E lui sta a cavallo Della nuvola Speedy Sappiate che io Il finale Alternativo L'ho fatto Che ho dovuto Cacciare 500 medaglie PT E consegnarle A Ub E se ne sono andati E quello è come se fosse Il finale Di Dragon Ball Z E veramente Vi posso dire Che sono contento Di aver sbloccato Questo finale Ora aspettate Che sto facendo La miniatura Molto bene Per dire anche Che hanno Ancora supportato Xenowars Poi ragazzi Passiamo Alle mascotte Vedete Questi pupazzetti Tra virgolette Interagiscono Con noi Quando facciamo Le mosse E a parer mio È un po' Stupida La cosa Perché mi sarei Aspettato Altro Non è che è bello Però è un po' Carino lo è Cioè questa qua Di Machinbook È simpatico Vorrei quella Di Goku C'è anche Quella di Zeno Ma è carina Dai Ora Ad accessorio Se non vorrei dire nulla Non c'è nulla No Abbigliamento Altrettanto Non c'è nulla Abilità Vedete L'attacco supremo Di Goku Ovvero Visione Divina Poi c'è Il pugno Sublime E l'onda Energetica Divina Che Goku La fa Nella sua Forma di Godi Ultraistinto Base Contro Kefla Contro Kefla Ma Per il momento Io queste qua Non me le compro Ma io mi vado A comprare La visione Divina Perché è una delle mosse Di Xenowars Che sembra essere forte Ora La andiamo pure A provare La andiamo pure A provare E infatti Io poi mi rifarò Le medaglie Tranquilli Ora Ci vediamo Un po' La Le mosse Ci vediamo un po' Le mosse Adesso Eccola qua Ed è una Miss Ed è una Mossa Con Pugni e calci Ora Ora la testeremo In battaglia La testeremo Ovviamente Non c'è bisogno Di dirvi Che il mio Patroller È veramente Forte Veramente Contro il computer È fortissimo Però facciamoci Sempre un allenamento Perché è solo Un test Poi questo Lo proverò io Sul campo Proprio Contro Zamasu Dai Così vi abituate Pure a vedere Un altro personaggio Inedito Eh sì Vi domandate Come cazzo C'è lo sto personaggio Ma ragazzi È usabile Solo E dico Solo Mi serve Spazio Però Sempre Torneo del potere Mi serve Vi domandate Come ho fatto A questo personaggio Non è una mod State tranquilli Non è una mod E questo è il tutto Ok Adesso Ci vedremo Insieme Tutta La Com'è Perché vorrei Vedere Il danno Che fanno Ok Prima Ci trasformiamo Qualcosa Di epocale Eh Se vi dico La verità È leggermente È quasi Alla pari Del lancio Divino Di Black Goku Super Saiyan Rosa Eh Se ci riflettiamo Un attimo Riproviamo Si fa un danno Pazzesco Io questa qua La metterò Stanne pur certo Sia online E offline Garantito Ragazzi Molto bene Ragazzi Io il tutorial Lo posso Pure Chiudere qua Lo posso pure Chiudere qua Con tutta Tranquillità L'unica cosa Ve lo ripeto Non mi è piaciuto Molto Perché addirittura Anche i costume Di Broly Ascoltate I costume Di Broly Che fa parte Del film Dragon Ball Super Broly Si devono Sbloccare Tramite una missione Tramite quella Missione Esperto Che vedete Quella lì Tramite quella Là I vestiti Di Broly Anche un altro Anche altri Materiali Però Non è che Sia bello Quindi ragazzi Diciamo che Io Comunque Il tutorial Lo posso Pure Chiudere qua Spero Che abbiate Capito Che la Kaido Shin Del tempo Come si Sblocca E anche Le sue Mosse E anche Le mosse Di Goku Ultra Istinto Padroneggiato Quindi ragazzi Io il video Lo posso Pure Chiudere qua Vi invito A lasciarmi Un bel Mi piace Un commento Iscrivetevi Al canale E qua Da Sabit È tutto E noi ci vediamo Al prossimo Video